pace bene cari fratelli e sorelle bentrovati quinta domenica di quaresima ormai prossimi alla pasqua eccoci al testo della risurrezione di lazaro o meglio del suo risuscitamento questa vita in questo testo bellissimo io mi limiterò a mettere in luce tre passaggi primo punto che mettiamo in luce dal testo lo potremmo intitolare chiavi di lettura per la morte gesù viene informato della malattia grave di lazaro gesù non interviene non si mette subito in cammino ma dice questa malattia non è per la morte ma è per la gloria di dio anzitutto notiamo gesù non parte subito vi dicevo potremmo dire che trasmette quasi sicurezza padronanza davanti a tutta questa situazione e ci dice questa malattia di lazaro non è per la morte ma per la gloria di dio è una bellissima chiave anche per la nostra vita una malattia la morte stessa di una persona cara non è per la sofferenza in sé per sé non è per la morte quasi che dio ne goda ma è per la sua gloria cioè cioè c'è qualcosa di più grande dietro c'è un disegno d'amore che ci supera anche in quella situazione anche se ora in pienezza noi non riusciamo a scorgerlo ma non solo il fatto che dio non intervenga subito ci dice anche qualcos'altro vedete che noi tante volte vorremmo che dio agisse intervenisse come diciamo noi ma in realtà dio sa quando e come intervenire lui è dio noi siamo le sue creature i suoi figli a noi sta fidarci e affidarci a lui che vede ben più lontano di ognuno di noi secondo punto l'incontro di gesù con le due sorelle in particolare mi soffermo su marta e la professione di fede che gesù le chiede marta va incontro a gesù è quasi in tono di rimprovero gli dice ma se tu fossi stato qui nostro fratello non sarebbe morto ma io so che tu qualsiasi cosa chiederai a dio lui te la concederà e manifesta sia una certa fiducia in gesù ma vede in gesù qualcuno che può intercedere presso dio mentre gesù invece vuole che lei faccia un salto di qualità nella sua fede in lui e le dice marta ma guarda che tuo fratello risorgerà sì lo so signore alla fine dei giorni era il credo tradizionale dei giudei in particolare dei farisei gesù qui chiede il salto di qualità a marta nella sua fede marta io sono la risurrezione la vita chi crede in me anche se muore vivrà tu credi questo guardate questa è una frase centrale da inciderci nel cuore gesù dice io sono la risurrezione la vita lui è la vita divina la vita eterna è quella vita che vince la morte e gesù dice chi crede in me anche se muore vivrà e qui il di più chi crede in me chi vive unito a me anche se attraversa sorella morte corporale continuerà a vivere in me questo è il di più della fede cristiana noi non crediamo in una teoria ma in una persona in dio che si è fatto uomo che è vivo e risorto e presente noi possiamo entrare e vivere in comunione con lui la comunione con lui ci dà ora già la sua vita eterna in noi che ci farà anche vincere superare il valico della morte questa è la meraviglia di credere in gesù il di più bellissimo che ci dà più gioia più forza più speranza e gesù dopo aver detto tutto ciò dice ma tu credi questo tu credi che io sono tutto questo sono io la risurrezione la vita e marta allora professa la sua fede in gesù quella fede decisiva che cambia radicalmente la qualità della vita e anche l'idea stessa della morte santa teresina quando parlava della morte diceva non è la morte che mi coglie ma il mio signore che mi viene incontro e diceva io non muoio ma entro nella vita terzo e ultimo punto gesù va da lazaro ormai da quattro giorni nel sepolcro gesù va dopo aver incontrato le lacrime il dolore di maria gesù che freme nel suo cuore davanti al dolore che reca la morte e deciso va e qui risuscita a questa vita lazaro poi deciso andrà verso gerusalemme verso la sua morte risurrezione perdonare la vita per noi e sconfiggere del tutto la morte quindi gesù va da lazaro da quattro giorni nel sepolcro già era iniziata anche la decomposizione e gesù si manifesta veramente il signore della vita con la sua sola parola risuscita lazaro lazaro vieni fuori e lazaro che esce fuori mi interessa soffermarmi su un punto vedete è la voce di gesù che fa uscire lazaro fuori dal sepolcro ed è la comunione l'amicizia con gesù dunque che gli ha restituito la vita vedete che cosa è che ci permette di vincere la paura della morte la paura della morte insieme alla paura di dio è la paura più radicale che abbiamo tutti noi nel nostro cuore dire paura della morte non significa soltanto dire paura del momento stesso della morte la morte è una realtà che viviamo giorno dopo giorno in che senso che la nostra vita scorre e la nostra vita scorre verso la morte che succede noi abbiamo il desiderio di vivere di migliorarne la qualità e al contempo di preservare la nostra vita da ciò che la minaccia ma purtroppo in tutto ciò gioca un aspetto importante anche la realtà del male del peccato perché perché nel tentativo di preservare la nostra vita siamo portati e inclini a vivere per noi stessi a rinchiuderci nell'egoismo a cercare salvezza in ciò che salvezza non dà vi faccio un esempio cosa c'è dietro l'attaccamento ai soldi verrete oltre il desiderio di benessere di togliersi degli sfizi e quant'altro c'è qualcosa di più profondo la persona cosa cerca nei soldi sicurezza materiale si pensa che se hai i soldi ti puoi curare cioè puoi preservare la tua vita quindi cosa c'è dietro l'attaccamento ai soldi un tentativo di risolvere la paura della morte altro esempio che cosa è amare amare dare la vita per l'altro e cosa vuol dire dare la vita per l'altro dar la tua vita cioè in un certo senso ogni atto d'amore è un piccolo morire a me per rendere felice te perché a un certo punto le persone scoppiano dicono basta ho sempre pensato agli altri ora penso a me stesso qual è il problema che c'è dietro pensare a te per salvare te stesso cioè la paura di non essere di non essere ricambiato di perdere la tua vita per qualcuno che non se lo merita profondamente dunque cos'è che guida tante nostre scelte il conservarci il preservarci dunque l'aver paura di morire per questo la morte in ebraico è chiamata melek balahot che vuol dire il re di tutte le paure la morte dipinta davvero come il re come la regina potremmo dire di tutte le paure la paura della morte si risolve solo incontrando qualcuno che vince la morte e che la faccia vincere anche a noi per questo la lettera agli ebrei dice Gesù è diventato partecipe del nostro sangue della nostra carne per ridurre l'impotenza mediante la morte colui che della morte ha il potere il diavolo e liberare coloro che gli erano soggetti ed erano schiavi per tutta la vita dove si risolve la nostra paura della morte nell'incontro con colui che l'ha vinta con cristo dio stesso che al contempo ci libera dalla paura di lui perché perché io guardando gesù scopro chi è davvero dio qualcuno che mi ama al punto da dare la vita per me qualcuno che mi ama al punto da sacrificare se stesso per salvare me qualcuno che mi ama sempre e comunque anche quando io gli volto le spalle scelgo il male qualcuno che mi dice guarda quanto ti amo anche quando tu mi escludi mi estrometti mi crocifiggi io continuo a dar la vita per te a bussare al tuo cuore perché accogliendo me tu possa vivere ora e per sempre in fondo dire a qualcuno ti amo e dire a qualcuno io voglio che tu viva che tu non muoia mai e c'è quel bellissimo racconto giudaico dell'angelo della morte che andò da abramo abramo la vide disse ma può forse un amico rivolgendosi indicando dio volere la morte del suo amico disse indicando se stesso e l'angelo della morte sorridendo gli disse ma può forse l'amato rifiutare l'incontro con colui che lo ama e abramo disse eccomi allora prendimi che dio vi benedica pace e bene a tutti